Sì, siamo molto soddisfatti di questo risultato. L'anno scorso e sulle 24 ore, riprendendo i dati del Ministero dell'Economia, ci aveva segnalato tra i primi 300 comuni virtuosi per quanto riguarda la celerità dei pagamenti ai fornitori e ci attestavamo poco più sopra i 50 giorni circa per i pagamenti in media. Quest'anno siamo al risultato ben più positivo perché paghiamo in 27 giorni e questo è molto importante per l'economia in generale ma anche per l'economia locale perché sono tante le imprese che ovviamente le aziende che svolgono lavori oppure servizi o forniture per quanto riguarda l'amministrazione comunale sappiamo quanto è importante per le imprese stesse avere sicurezza nei tempi di pagamento per non andare in sofferenza. Ecco, che è un ente pubblico con una media di 27 giorni saldi, quelli che sono i conti che deve sostenere rispetto alle imprese e alle aziende, credo sia davvero un bel risultato e di questo vada reso merito in maniera importante ai nostri uffici, le avevamo dato questo obiettivo già in precedenza e eravamo scesi a poco più di 50 giorni. Ora siamo a 27 e questo per noi è un motivo di grande soddisfazione.